C'è la voglia di chiudere finalmente questo campionato, ho tenuto conto che ormai i giochi sembrano fatti. Nella matematica mancano tre partite, tre vittorie, speriamo di farle il prima possibile, cominciando subito la domenica prossima. Tu conosci bene la Re Canatese perché hai giocato tanti anni anche in Serie D e conosci questa squadra e di quelle toste. Ma quello è un campo strano, nel senso che ho fatto sempre fatica in quel campo perché non è regolare, non è bellissimo. Quindi sarà una partita difficile, loro sono una squadra apostica e ci vuole solo il miglior Teramo per vincere la domenica. Peraltro forse qualcuno ti avrà detto che proprio a Re Canati lo scorso anno inizio è il momento nero del Teramo, paradossalmente invece qui può essere, non dico la gara della promozione, ma una di quelle che può dare il lascio a passare. Ma adesso dipende solo da noi, rispetto all'anno scorso abbiamo molti punti di vantaggio quindi dobbiamo sfruttarli al massimo e partita dopo partita. Senti Nando, da Sulmonese che vive lì ma lavora qui a Teramo, che impressione hai di quello che sta accadendo nella tua città dal punto di vista calcistico? Perché le potenzialità erano ottime ma i problemi societari restano. Ma Sulmonese è sempre una situazione un po' strana perché partono sempre con dei grandi progetti e poi alla fine niente di concreto. Adesso la situazione precisa non lo so, però spero che almeno per l'anno prossimo riescano a salire perché facendo anche si diceva dello stadio, però è tutto... Girano numeri faraonici per questo stadio, forse è un po' fuori luogo per una realtà come quella di Sulmona, tu che cosa pensi? Sì, questo sì perché alla fine come pubblico, anche se ultimamente fa sempre l'eccellenza, quindi non lo so se con un campionato di Serie D potrà far venire tanta gente. Lo stadio penso per la capacità sia un po' troppo per Sulmona, però potrebbe essere anche un inizio. L'ultima pensi già l'anno prossimo, magari non so la possibilità di restare a Teramo, c'è bisogno chiaramente di sedersi a Tavorino, che idea hai? No, forse è un po' presto, dobbiamo centrare gli obiettivi e poi ci pensiamo.